Nei prossimi video segue tutta una serie di video lezioni che già avevamo studiato a proposito dei sistemi di riferimento non inerziali, quindi ripropongo i video di quella playlist lì, in quanto già in quella playlist si era accennato al problema astronomico, cioè Galileo, l'universo, la condanna, il dialogo, il libro di Galileo dove lui difende il sistema copernicano e per farlo spiega e denuncia il principio di relatività, cioè che quando stiamo dentro una nave che va a velocità costante non ci accorgiamo di niente, naturalmente Galileo si riferisce alla Terra, la Terra è come una nave e questo perché Galileo fa questa analogia? Perché una delle critiche più importanti che venivano rivolte al sistema copernicano era che se la Terra veramente girava intorno al Sole noi ce ne saremmo accorti, ma Galileo risponde che non ce ne accorgiamo, esattamente come se ci troviamo in una nave che va a velocità costante, anche se va veloce, non ce ne accorgiamo, cioè il moto, rettilineo uniforme, non è osservabile dall'interno del sistema di riferimento. Un po' come oggi noi diremmo in un treno, la nostra vita in un treno che va a velocità costante è come se il treno fosse fermo. Quindi di seguito troverete tutti questi video dal numero 1 al numero 13.